pace bene cari fratelli e sorelle ben trovati continuiamo il nostro cammino nel decimo capitolo del vangelo secondo marco e oggi gesù tocca il tema dell'attaccamento alle ricchezze abbiamo un problema di possesso di false sicurezze che possono ostacolarci nel nostro cammino verso la santità e dunque nel dono generoso di noi stessi gesù cammina sulla via sta andando verso gerusalemme un tale gli va incontro gli si getta davanti in ginocchio e lo supplica dicendo maestro buono cosa devo fare per ereditare la vita eterna ora questo tale è mosso da un desiderio bello profondo a un problema serio del quale non è consapevole ma che gesù coglie bene infatti inizia spostando l'attenzione su dio e dice perché mi chiami buono solo dio è buono qui gesù non nega la sua divinità ma come vi dicevo centra l'attenzione di questo tale su dio e sulla sua relazione con dio successivamente gesù ricorda ciò che dicono i comandamenti ed elenca tutti i comandamenti inerenti il rapporto con il prossimo questo tale risponde gesù ma io tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia giovinezza quale dunque il suo problema nel suo modo di esprimersi manca l'accento della gratuità cioè sembra uno che non vive una relazione d'amore di comunione e che ha vissuto tutta la sua vita come una serie di doveri di obblighi di cose da fare per meritare ha sì una generosità e un desiderio di fondo ma potremmo dire è ingabbiato in una vita vissuta come una serie di osservanze per sentirsi a posto per meritare cose per sentirsi sicuro assolvendo dei compiti rispondendo magari all'attese dei genitori presumibilmente praticanti e magari per sentirsi a posto davanti a dio ed ecco infatti la risposta di gesù da dove parte il signore fissatolo lo amo lo ama prima ancora e quest'uomo gli abbia detto sì o no lo ama guardandolo dentro guardandolo profondamente laddove quest'uomo non si riesce a guardare e lo guarda con amore e lo vede nel suo bisogno di essere amato perché in fondo le persone che cercano il proprio valore in ciò che fanno e si sentono sicure solo se raggiungono determinati obiettivi le persone che fondano la loro vita sul possesso delle cose o sul ruolo che ricoprono nella società sono persone fragili che fondamentalmente hanno bisogno di sentirsi amate per come sono di riscoprirsi amabili e amate per come sono questo amore lo può infondere nel profondo dell'anima soltanto l'incontro con il signore solo lui e la sua parola solo lo spirito di dio è capace di cambiare questo nostro povero cuore staccandolo da tutto ciò che vera sicurezza non è e fondandolo su di lui sulla certezza di essere amati da lui resi capaci di amare come lui solo allora parte la risposta di gesù una cosa ti manca va vendi quello che hai dallo ai poveri e avrai un tesoro in cielo poi vieni e seguimi questo tale rimase bloccato paralizzato inorridito il verbo greco stugnazzo è utilizzato in matteo 16 13 per indicare l'aspetto cupo del cielo prima della burrasca questo è il suo stato d'animo letteralmente sconvolto questo tale era andato da gesù chiedendo di sapere per meritare per sentirsi dunque più autonomo e sicuro e invece si sente dire da gesù che è necessario che vada che dia che condivida con gli altri e che segue a gesù che si lascia guidare da lui questo tale possiamo dire che soltanto allora scoprì le zavorre che aveva nel cuore il caso di quest'uomo è quello che un bravo biblista bochamp ha definito la ricchezza trasparente la ricchezza trasparente è quella di cui il proprietario non è veramente cosciente essa gli viene magari dai genitori che gli onora e grazie ad essa che non ha mai rubato perché non gli mancava nulla o che non ha mai ucciso ricchezze genitori più una vita morale spirituale costruita sul fare per sentirsi a posto e sul fare per meritare lo hanno protetto come un guscio e hanno contribuito sia a farlo crescere bene in determinati aspetti ma anche ad ingabbiarlo sotto altri punti di vista quest'uomo non si accorge di quanto le sue mani siano strette su ciò che ha e che fa come se facesse parte di se stesso l'attaccamento di cui non ci si rende conto quello più difficile da staccarsi quante volte noi pensiamo di avere un cuore libero ma in realtà imprigionato ad esempio siamo legati ai beni ai beni materiali soldi alle ricchezze che siamo incapaci di condividere a livello di principio siamo tutti dei madre teresa e dei san vincenzo dei paoli ma poi ognuno si potrebbe chiedere quanto ad esempio condivido al mese con i poveri ma queste proprietà possono essere anche di altro livello ad esempio possono essere dei progetti personali che assolutizziamo e ci impediscono di aprirci al nuovo che dio ci propone ruoli che ricopriamo incarichi che abbiamo che ci impediscono di metterci da parte far spazio ad altri ma anche ambizioni sbagliate che ci impediscono di corrispondere alla volontà di dio insomma tutte quelle cose a cui attacchiamo disordinatamente il cuore chiedendo ad esse vita ma che in realtà finiscono per toglierci la vita se ad esempio ho fatto degli incarichi che ricopro in parrocchia il mio tutto e magari il signore mi chiede un passettino in più magari non sarò disposto a lasciarli per seguire maggiormente cristo se ho attaccato il mio cuore ai beni materiali sarò persino incapace di condividere con chi ha bisogno e magari è accanto a me perché perché alla fine ho le mani prigioniere della saccoccia e così via quando ci blocca la paura di perdere una determinata cosa per seguire un po più il signore ci dovremmo chiedere chi sia davvero al primo posto nel nostro cuore come faccio a capire se sono schiavo di qualcosa di qualcuno se non posso farne a meno o se quando me lo toccano salto in aria da qui lo sconvolgimento di questo giovane che finché magari sentiva parlare di comandamenti ok ma quando si è sentito toccato nella tasca e chiamato a donare e chiamato a farsi guidare da qualcun altro riponendo in qualcun altro la fiducia che non in se stesso è crollato gesù nella seconda scena con ironia afferma quanto sia difficile per un ricco cioè uno che vive la vita come un possesso che vive le relazioni come possesso che vive gli incarichi e ciò che fa come possesso entrare nel regno di dio i discepoli allora chiedono maestro ma allora chi è possibile salvarsi è vero salvarsi non è nelle possibilità dell'uomo l'uomo da solo non ce la fa ed ecco perché gesù risponde agli uomini è impossibile ma non a dio tutto è possibile a dio diventa possibile all'uomo avere un cuore libero diventare capace di amare generosamente di lasciarsi guidare da qualcun altro di riporre in dio la sua fiducia soltanto se gli apre davvero il cuore e cammina concretamente con lui e da qui l'ultima domanda di pietro maestro noi ce l'abbiamo fatta abbiamo lasciato tutto per seguirti ma cosa ne avremo è la nostra paura che non valga la pena di seguire fino in fondo gesù che alla fine abbiamo qualcosa da perdere gesù non si tira indietro ed ecco la sua risposta in verità vi dico non c'è nessuno che abbia abbandonato casa fratelli sorelle madre padre figli e campi per causa mia e del vangelo che non riceva il centuplo ora in questo tempo in case fratelli sorelle madri figli e campi insieme a persecuzioni e nel mondo futuro la vita eterna che il buon dio vi benedica pace e bene a tutti